Ricorre oggi il 166esimo anniversario della Fondazione della Polizia, celebrato presso l'Auditorium San Paolo di Viale Madrid da Frosinone. Lo slogan anche quest'anno è «Esserci sempre, nello spirito che anima tutte le attività del corpo al servizio dei cittadini». Per l'occasione sono stati allestiti stand con i gadget della Polizia di Stato, con il sostegno del Frosinone Calcio e della casa editrice Volan. Presente alla celebrazione gli atleti delle Fiamme Oro e le Unità Cinofile, la manifestazione inoltre è stata allietata dalle note della band Mistura, del poliziotto musicista Marcello Giona. Il questore della provincia di Frosinone, Rosario Amato, ha voluto condividere con i cittadini e la grande famiglia della Polizia di Stato ancora una volta i suoi valori. «Per esserci sempre bisogna fare dei sacrifici?» «Assolutamente sì. Come ho potuto dire nel discorso, questa è la cifra del nostro fare polizia. Lo facciamo con serietà, con impegno, con rigore. Non facciamo cose eccezionali, non facciamo cose strabilianti. Non siamo persone eccezionali o strabilianti. Io per natura diffido di quelli che hanno capacità eccezionali. Io dico sempre di me che faccio discretamente il poliziotto. Raggiungo sia e no la sufficienza come mamma e per il resto meno della sufficienza. Questo ha proprio a dire e a sottolineare la normalità che ci contraddistingue e nello stesso tempo la straordinarietà dell'impegno, del rigore che mettiamo nel nostro esserci e esserci sempre ogni giorno. «Giornata sicuramente commovente che ha messo in evidenza la grande operatività non solo della Polizia di Stato ma l'imprimatur che il neo questore è riuscito a dare a tutti gli uomini. Nuovi dirigenti, la presenza del dottor Genovesi credo che abbia avuto i risultati sul territorio. La soddisfazione anche per il prefetto di vedere ancora una volta, ancora un anno premiato un uomo della questura di Frosinone alla qualifica di primo dirigente significa che su questo territorio c'è un lavoro di squadra che funziona che funziona per dare sicurezza al territorio, che funziona nel dare a tutti quanti noi quella certezza che la Polizia c'è e questo credo che sia il messaggio che dobbiamo lanciare a tutti per dare a tutti una percezione maggiore di sicurezza su un territorio dove malgrado i problemi che ci sono c'è sicuramente sicurezza più che in altri territori».